Lo studio è la proiezione di un paesaggio che sta fuori, che però ha una condizione più intima, una sorta di microcosmo, infatti è molto importante per me che dentro ci siano i materiali che raccolgo fuori, ci sono proprio i frammenti del macro che sperimento magari ogni giorno, è una condizione esoterica che a me piace molto. I viaggi sono tutti qua dentro, le esperienze che faccio fuori sono tutte qua dentro in una sorta di condensato, infatti le cose cambiano, mi piace muoverle, si trasformano, si alterano ed è comunque questo, cioè il fatto che io continuo a vivere, quindi siccome le esperienze crescono, si trasformano, anche lo studio cambia continuamente. In generale ciò che mi interessa è l'uomo e la materia di cui è composto, che principalmente è il pensiero e mi piace questa idea di pensarla come una sorta di, quasi una materia concreta, e quindi mi affascina l'idea che dentro di noi c'è questa grande potenza, potenza della logica, potenza della manipolazione continua della realtà e quindi chiaramente le cose che più mi affascinano sono le mappe, tutto ciò che è la rappresentazione del paesaggio, che lo vedo proprio come una sorta di proiezione di quello che abbiamo dentro. Storie complicatissime, ma anche molto semplici, ho semplicemente conosciuto degli artisti grandi e maturi e mi piaceva come vivevano, come riuscivano a integrare la vita e il loro, diciamo, mestiere, tra virgolette. Quindi l'ho vista come una possibilità di approfondire concetti, di studiare libri, di tornare un po' a fare della ricerca. Mi piace scrivere il progetto per realizzarlo, finalizzarlo, quindi diciamo nell'arte c'è anche questa bellezza, immediatezza di avere un po' questa possibilità di stare, sia allontanarsi e dominare la propria ricerca dall'alto, sia proprio di immergersi e proprio trasformarla in qualcosa che comunque ha una presenza fisica. Mi interessa principalmente il processo che sta dietro le cose, cioè come le cose vengono fatte. E questo può essere anche un ragionamento, una cosa costruita, cioè ha una struttura, una storia, nel senso che viene generato, c'è un certo punto, poi cresce, matura, muore. Quindi in questa storia io lavoro anche da una sorta di artefice dietro, quindi questa cosa che all'inizio può essere semplicemente un concetto viene da stimoli esterni che possono essere un viaggio su un vulcano. Mi piace il ferro perché il nucleo della terra è ferroso ed è il materiale che costituisce la forza che ti fa stare in equilibrio, che ti attrae un po' verso, ci fa stare dritti. Quindi per me è l'immagine di quel centro che non vediamo più ma sentiamo. Mi piace l'ottone che è una lega ed è l'oro degli alchimisti perché sono attratto come qualsiasi uomo dal perenne, cioè dall'immutabilità, dalla perfezione, però l'ottone è un materiale che invece subisce il contesto, quindi si ossida, cambia col tempo, che è un po' come noi, che alla fine ci ossidiamo, ci trasformiamo lentamente, anche nel desiderio di perennità. Mi piace il marmo che per me sono delle fette di montagne e quindi ci facciamo l'architettura, ci perennizziamo attraverso questi materiali che hanno un tempo ben più geologico del nostro, però hanno la fragilità che portiamo anche dentro. Sono sempre strutture molto precarie, lo utilizzo come materiale precario, sono spesso frammenti di grandi blocchi e sono gli scarti di questi pezzi di montagna e hanno comunque questo aspetto molto sottile e vengono tenuti spesso da delle morse, dai strumenti da lavoro che necessitano di una pressione continua, altrimenti tutto cade. Poi mi piace il vetro che è fatto di pietra e faccio queste leggerissime quando parlo di fotografia, paradossalmente o di disegno. Il disegno è sempre una cosa incredibilmente evanescente, cioè proprio è una proiezione, la proiezione del pensiero più cristallina, quindi è un'incisione, sono spesso incisioni con la punta di diamante su vetro, quindi comunque sempre una grande fragilità, sono generalmente i vuoti delle fotografie, cioè nel senso i luoghi dove non c'è l'informazione, quindi sono bruciati, sono sottoesposti. Io penso che non sia solo degli artisti, ma sia in generale dei pensatori, che può essere il poeta, può essere il scienziato, può essere l'artista. L'artista non ha niente di speciale, è semplicemente facilitato perché può lavorare direttamente sull'operazione dello spostamento, perché secondo me se parliamo di responsabilità, tu sei responsabile quando capisci dove sei posizionato. Questa è la Tunisia. Una cava sull'Etna, sono delle fotografie, sono tutte un'incisione su un vetro, a mano, in tutti gli spazi dove non c'erano informazioni.